C'era una volta un mago che si era stancato di fare le solite magie, si era stancato di risvegliare la bella addormentata, di arricchire il re e fargli vincere le battaglie e di scacciare le streghe cattive. Allora decise di andare in giro per il mondo. Il mondo era grande e pieno di gente. Per strada aiutò una vecchietta ad attraversare la strada, diede da mangiare a un gattino abbandonato, aiutò un bambino a fare i compiti e cedette il suo posto sull'autobus a un signore che aveva un bastone. Dopo qualche giorno si accorse che per fare queste magie non gli serviva la bacchetta magica. Allora la ripose nella sua custodia e il mago continuò ad andare in giro per il mondo ma senza bacchetta magica.